Ok, qui oggi stiamo parlando sostanzialmente di un processo di adattamento delle pubbliche amministrazioni al nuovo mondo dei social, la regione come lo ha vissuto? Ma allora noi come consiglio regionale, quindi come assemblea legislativa, diciamo abbiamo investito molto sui social fin dalla nascita di queste piattaforme, pensando che queste fossero delle porte di accesso per i cittadini, per avere informazioni, per accorciare le distanze e recuperare un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. E devo dire che in questo siamo confortati anche da un recente sondaggio dell'Istituto Piepoli sull'Osservatorio della Comunicazione Digitale che ci dice che i cittadini si aspettano che le amministrazioni stiano sui social e rispondano puntualmente alle richieste e alle domande che vengono fatte. In questo, dal nostro punto di vista, una grossa importanza riveste anche la valorizzazione dei dati che noi abbiamo, delle informazioni. Nelle amministrazioni ci sono centinaia di migliaia di informazioni utilissime per i cittadini che ci aiutano a interpretare meglio la realtà che ci circonda. Allora i social, insieme ai dati, sono la nuova frontiera, anzi l'attualità più che la nuova frontiera su cui le amministrazioni devono investire. Immagino che il processo legislativo regionale necessiti un po' di una traduzione sui social. Quanto è difficile farlo? È difficile perché bisogna far cambiare proprio la mentalità. Anni fa noi sui social e nei comunicati stampa avevamo anche l'abitudine, prima che io arrivasse al direttore dell'ufficio stampa, magari di mettere i titoli interi delle determini e delle delibere, è una cosa incomprensibile se ci pensiamo. Quindi un lavoro grosso è stato fatto per cambiare la mentalità, cioè per sburocratizzare la comunicazione, sburocratizzare il messaggio e capire che quello che serve all'ufficio stampa e ai social evidentemente è un messaggio diverso rispetto a quello che viene veicolato normalmente nei settori legislativi e amministrativi.